Cosa portiamo oggi? Tua madre Probabilmente questo video uscirà quando Natale è passato Quindi le lucine e tutto il resto Natale è già passato Infatti spegniamo queste lucine allora Ma le lucine fanno luce perché non ne abbiamo abbastanza oggi Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale Oggi Francesco dopo Down e feste e cose varie è tornato Si Con una deck profile molto particolare perché finalmente dopo mesi Finalmente porto una lista e sicuramente vi piacerà Più di tutte le altre Si, è la mia lista preferita quindi C'è il mio mazzo preferito Quindi siate buoni Adesso sotto flame in continuazione Io non lo gioco così, io ci metto anime dei maghi Io no, fa cagare Succhiatemi il cazzo Esatto Prima di tutto ragazzi vi ricordo che questo video come tutti gli altri Sono sponsorizzati da Magic Corner Quindi se vi serve prodotto sigillato o carte singole Trovate il link del loro store qua sotto in descrizione Inoltre se volete liberarvi di carte singole o prodotto sigillato Se avete un box di Blar chi sono Io avevo tolato lo structure in granaggio antico e non mi ha citato in quel video Si Era mio No l'ho detto Non l'hai detto L'hai detto Hai visto il video? L'ho visto Qua sotto in descrizione trovate Instagram Seguitemi Poi se ne parla Vi offro qualcosa Caffè, un abbraccio Detto questo ragazzi vi lascio con Francesco Che vi spiega la sua decklist di Fluffal Perché non l'avevamo ancora detto E niente Allora questo è il mazzo che mi ha fatto riavvicinare al gioco Ormai tre anni fa quando poi contattai Federico No ti ho contattato io Ah mi contatto E' vero E' vero Mi contatto lui E niente Questo è Fluffal Credo che Ma sono passati veramente tre anni? Fa due Eh Ora siamo al terzo Questo Eeeh Perché ci sono altre versioni appunto con Anime dei Maghi e Illusione del Caos Però ho paura che poi va proprio a perdere di consistenza Rischi di bricca davvero troppo E questo mi sembrava funzionale Perché gioca anche un reparto simpatico Non per l'avversario Quindi partiamo con i mostri Con tre pinguini Che è quello Gli effetti dovrò spiegare Fluffal Sì Pinguino fa entrare special un Fluffal da mano Qualsiasi Quando viene utilizzato come materiale da fusione Ci fa pescare due e scartare uno Ed è ottimo per fare chain lock Sui nostri effetti delle fusioni Che hanno tutti un effetto che quando entrano fanno qualcosa Ma poi lo vedremo Insieme al pinguino Il delfino Che è forte Perché entra Lo fate entrare di pinguino Ti resetta un venditore di giocattoli E ti manda al cimitero Un Fluffal qualsiasi Quindi mandi ali Effetto ali Peschi Ma poi lo spiegheremo E ovviamente Essendo due acqua Puoi fare Bahamut e Todali E vabbè E' simpatica quella Finchè non la levano Finchè non la bannano Best Con la Max Rarity L'orso Guarda quanto si vede bene però Max Rarity L'orso Incredibile Bellissimo Ne ho solo due Perché tre Tre troppi Due euro l'uno Tre euro l'uno Forse Carta da ricchi E ali Una sola Perché non la vuoi vedere La vuoi mandare solo di effetto di delfino Ma che succede se io parto da shifter E poi tocca a te Mi alzo dal tavolo E lo ribalto Judge Judge Vabbè tanto come tutti i mazzi È difficile non so free shifter Poi due cani Solo due Tre L'ho testato L'ho testato davvero tanto E mi sembravano troppi Tre cani Decidito di affiancarlo con questa Perché la combo È fare Cane Che ti cerca Questa Cioè se parti solo con cane Che ti cerca questa Entra special perché controlli Fluffal Link 2 Dagda E poi vi ho già spoilerato che cosa succederà Quindi Con Dagda Poi questa monocopia Ti fa recuperare polimerizzazione Quando viene fusa La riprendi in mano Ottima Questa che stavo pensando di cattarla Per mettere Fluffal Octopus Però Mi piace perché ogni tanto Incredibilmente Non riusci a pescare polimerizzazione Quindi questa ti aggiunge poli O ti fa fare poli usando se stessa Quindi Ci può stare Poi Gimp Che sono solo 6 Il più forte Da fare nel turno dell'avversario Perché ti fa fondere Nel turno dell'avversario Utilizzando i mostri in mano O sul terreno Tuoi Come quick effect Quindi Forte Questa ti fa fare fusione nel turno dell'avversario E Ti previene dalla distruzione Se tu usi l'effetto di falce Per calare orca Orca entra Targhetta Uno da me E uno dall'avversario E spacca Se targhetti se stessa Che lo puoi fare Puoi bandire questa a cimitero E previene la distruzione Quindi Forte anche questo Due catene Tre sono troppe E tu vuoi vedere questa Per fare l'orca durante il turno dell'avversario E spaccarti falce Poi ve la illustrerò brevemente Vabbè Una di queste Perché la puoi cercare con ogni carta del mazzo Forbici Special guest Non fluffal E non impfili Abbiamo il lord Fortissimo Perché lo fai con Cioè lo fai Venditore di giocattoli Effetto venditore Scarti lord dalla mano Pescando uno Che se è fluffal entra special Effetto lord da cimitero Spacchi venditore Lui ti entra Effetto venditore Ti fa aggiungere fluffal E vabbè Forte lord Ci sta Uno per c'è chi lo gioca a due Ma due rischi ad essere davvero Per me troppo pesante Poi Una carta simpatica Falce C'è una domanda seria Eh Ma ti vorrei delle paludi L'ho provato Le delle paludi Fa cagare Non lo giocate Anche perché Se vi volete sbricare la mano E avete E non avete per fare le vostre fusioni Avete la fusione più forte di tutti Che è questa Che non ha Anche con tre impfili O tre Fluffal Quindi alla fine Re delle paludi Non lo vedo così Così utile Poi Magie Tre venditori di giocattoli Che per fortuna Non è once per turn È solo once L'effetto di Scartare No Scartare Per pescare uno Perché l'effetto di che si spacca E ti aggiunge Ne puoi usare tre O se lo ricicli Anche sei In un turno Quindi Forte Per fare prima questo Due di queste Tre sono troppe Perché Mi capitava De pescarne Due in mano De primo Fa cagare Come mano E Ah venditore Quando viene spaccato Come ho detto prima Ti fa aggiungere Un qualsiasi Fluffal Va bene Ah vero l'ho visti poi Era un sincro uno Un sincro E una fusione Col drago tipo bianco Sì ho visto Cioè guardate la polimerizzazione Con artwork alternativo Vabbè Non lo giocherei a di meno Forse lui a due Però È proprio fondamentale Che ti tira su una polimerizzazione E un imp Che ti serve E Non lo so Forse Forse giocherei a due Per giocare Qualcos'altro Ma Non lo so Forse ecco Forse due di quelle E tre catene Ci potrebbe sta Ci potrebbe sta Monocopie D'archetipo Questa la mandi di orca Perché orca Effetto rapido Mandi una carta Pelliccia spavento Dal deck O extra deck Al cimitero Per guadagnare La metà del suo attacco Originale E questa Quindi una volta Mandata al cimitero La puoi bandire Per evocare special Un fluffalo imp Dalla mano Quindi forte E vabbè Questa fa fusione Da cimitero Terreno Bandendo E per farlo Tk Che poi spiegheremo Come si fa Dopo Poi vabbè Carte non fluffa Il going second Tre goccioline E tre lightning Tre lightning Direte Oddio No Lightning no È pesante Fa cagare No Tutto sommato È una carta che serve Che devi Una di queste Sei Le devi vedere Se ne vedi due È meglio Ma se ne vedi due Rischi di non avere poi carte Per partire tu Se vedi doppio lightning Per fortuna Testando Anche il real L'ho visto solo Due volte Mi è capitato Se no Tutto sommato Cioè Lo puoi scartare Poi di droplet In ogni caso Cioè Per me ci sta Non giochi Tipo non giocherei Tre rai jackie O uno spolverino Per me è molto meglio Giocarlo così Per me Poi nessuno lo gioca Nessuno se l'aspetta Cioè Chi mette più mostri in difesa Nessuno gioca lightning Guarda Ieri al local Uno mi ha fatto Doppio crystal wing Hai detto Uno in attacco In difesa Nel dubbio Capito Poi io dirò Vabbè E questo era il main deck 40 carte Di pura magnificenza Extra deck Allora L'extra deck È praticamente Tutto a tema Diciamo Due di orche Che purtroppo Da quando hanno bannato Calamities Non ha più senso Giocarla terza Perché se no C'era la combo Calamities E vabbè Che schifo Mi spiace Facevi Ci sta Però facevi doppia orca Vabbè Ma questa è un'altra storia Due Tigri Una povera E una ultra L'effetto della tigre È che la fai con un fusione Più altri mostri Se la fai con tre O più mostri È indistruttibile Sia in battaglia Che dai effetti delle carte Quindi è un gran paletto È forte E poi ci puoi fare Xyz dopo Con lui Livello 8 E come livello 8 Lo vedremo dopo Cosa gioco Poi due tigri Perché ci Mi è capitato L'avevo giocata uno Ma te capiterà Di farle Cioè a me è capitato Di farne due Ed è l'effetto Che di spaccare Tanti materiali Sono stati utilizzati Per fare questa fusione Spacca carte sul terreno Anche le tue Quindi ti puoi spaccare Venditore Attivare effetto venditore Eccetera Eccetera La carta dell'OTK Simpaticissima Lupo Pelliccia spavento Attacca tante volte Quanti sono stati materiali utilizzati Bellissima Nient'altro da dire Carte non pelliccia spavento La chimera Ti sbricca le mani Ti fa pescare È forte Spacca Essendo un mazzo Che vuole andare secondo È ideale Non la giocherei a due Mi capita Quando riesco a TK Spesso chimera Non la faccio E quindi In generale Direi che Due non la giocherei Due non la giocherei Xyz Bamut e Todali E Numero 38 Da fare con i due livelli 8 E Vabbè Sapete tutti cosa fanno Questo non ha senso spiegarle Tre link Tre suoi link Punto pecora Ti riciclarà la risorsa che ti serve È forte Non è male E Dagda Perché fa schifo Per falce Non si è E Apollusa Che capita più volte di quanto uno pensi Perché alla fine Se riesci a Fare board wipe L'avversario Ha poche risorse in mano Dopo che hai Attaccato E magari non sei riuscito a TK Farci una pollusa sopra E magari avvece Un Todali Se poi di che la partita È finita Quindi Se volete Se vuoi Faccio Spiego brevemente Cosa può fare Nell'opzione più brutta In cui partiamo Non serenissimi E non contentissimi L'importante è riuscire a fare Un link 2 E avere questa carta in mano Come ho già spiegato prima Un link 2 Entra a lui Ti cerca pecora Perché è l'unica Fluffal che entra special Se controlliamo Fluffal Poi c'è anche un altro effetto simpatico Ma poche volte l'ho utilizzato Ti permette di Farla ritornare in mano Per specialare un infilo Da cimitero O da mano Sì Anche da cimitero Non ero sicuro Da cimitero Ok Quindi fare link 2 Evocare Dagda E letteralmente Passare Con questa in mano E un qualsiasi altro pezzo Fluffal Qualsiasi Per l'avversario fa Il primo effetto La prima normal Piazzi falce Che adesso Sarà pinguino Perché Vabbè lo cerco Dai cerco Ah eccola Oddio Sto idiota Quindi che ne so Effetto Attivo effetto di falce In catena Che mi setta lui E Effetto suo Dalla mano Che Fondendosi con un'altra carta Che potrebbe essere anche Nel nostro terreno In ogni caso Deve fare Un mostro pelliccia spavento È loccato Cioè non posso farci Chimera Posso fare solo Roba pelliccia spavento Entra lui Chiaramente Targhettando Falce E la carta Dell'avversario E vabbè La falce lock È questa Non so Forse è un po' inutile Spiegarla Per chi già la sa Però Questa è Altre cose simpatiche Sono come calare l'Xis Ma Si fa così Chiaramente Facendo Prima questo mostro Anzi Faccio una mano di prova Faccio una mano di prova Considerando che Sono tutte separate Per la lista Molto probabilmente Sarà una mano brick Però vabbè Viva È ma Sicuro Pesco Falce E Tre pinguini Sì Ecco il primo Il primo pinguino Ok Eh no È un po' brick L'hai montato male Allora No non l'ho montato male Allora Però in realtà così È un po' poco Al meta odierno Però Allora Diciamo Cioè tu mi hai pescato anche la sesta Per andare a secondo Ci può stare In ogni caso Questa è la sesta Facciamo anche conto che non ci sia Se andiamo primi Purtroppo Riusciamo solo a mettere Una negazione Con loro due Perché Entra pinguino Entra Fa effetto Fa entrare Delfino Bamut Todali Passo Ahimè Se andiamo secondi Possiamo fare la chimera Per fare Per spaccare E Pescare Avendoci Così tante poli E Poretto Il lord Adesso così Infatti Due non giocatelo Fa cagare Carino Provatelo Adesso mi sto un attimo Incastrando Ma ho fatto portare Quattro mazzi oggi Quindi In ogni caso È Super divertente E i going second Sono sempre più divertenti Dei going first Ricordiamolo E niente Questa è la mia lista Se vuoi venire a salutare I tuoi I tuoi adepti E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre vi sia piaciuto Fatemi sapere qua sotto Con un commento Cosa ne pensate La lista Mettete tanti dislike Proprio Quindi ragazzi State me easy E noi ci rivediamo Lunedì Con un video a caso Sempre qua Probabilmente mio Con un video a caso Ciao a tutti